in questo tutorial andremo a vedere come impostare un filtro con etichetta in gmail io in anticipo mi sono inserito, mi sono inviato una mail da un indirizzo gmail diverso a questo di prova andiamo ad aprire il messaggio che è inviato da robertodimolfettachiocciolagmail.com andiamo nella barra degli strumenti, ai tre puntini e clicchiamo su filtri messaggi di questo tipo si aprirà una finestra, se volete semplicemente filtrare i messaggi provenienti dall'indirizzo robertodimolfettachiocciolagmail.com lasciate così com'è, poi cliccare su crea filtro poi in questo punto del menu che si apre potete personalizzare come trattare i messaggi di questo indirizzo email per esempio una cosa molto intelligente da fare è applicare un'etichetta per esempio creare una nuova etichetta robertodm che sarebbero i miei iniziali quindi ogni volta che un messaggio arriverà da robertodm, da robertodibolfetta avrà questa etichetta creata in automatico possiamo mettere poi per essere sicuri che il messaggio non sarà mai inviato nello spam clicchiamo su non inviare, spuntiamo non inviare mai a spam poi se sono parecchio importanti questi messaggi per noi per esempio un datore di lavoro possiamo segnare come contrassegna sempre come importante possiamo applicare il filtro alle conversazioni precedenti ai messaggi precedenti aggiungere lo speciale e diciamo l'etichetta con il filtro sono stati creati ecco vedete che l'etichetta in basso a sinistra riportano appunto robertodm l'etichetta creata come quella contenente il messaggio quando i messaggi saranno tanti allora potrete vedere l'utilità diciamo rispetto a altri messaggi di questa funzione potete vedere che andando su etichette robertodm con i tre puntini potete decidere di cambiare il colore per esempio un bell'azzurro quindi tutti i messaggi che avrete nella posta elettronica d'ora in poi appariranno se inviati da robertodmolfettachiocera gmail.com avranno l'etichetta robertodm il che renderà molto facilmente individuabili oltre a con i filtri aver garantito che non finiranno in spam eccetera eccetera e tutte le altre opzioni che abbiamo scelto con il menu apposito grazie grazie grazie